Ciao a tutti sono Costanza Ferro e oggi andremo a strecciare la zona del core. Questo esercizio serve soprattutto dopo una sessione di addominali per allungare tutta la parte del core. Dopo essersi sdraiati mi raccomando per soprattutto chi magari soffre un pochino di schiena il sedere stretto quindi posti mi raccomando e ci si solleva. Le spalle basse e attenzione se non riuscite a sollevarvi così tanto che sentite un po' di carico alla schiena potete anche rimanere appoggiati sui gomiti. Questo esercizio io lo odio però mi raccomando è molto utile e serve ad allungare tutta la parte degli addominali.